Domani 9 novembre all'Aquila si terrà la Commissione di Vigilanza con la discussione all'ordine del giorno dell'attuale situazione circa lo stato della ricostruzione degli alloggi Ater della provincia di Teramo, colpiti dagli eventi sismici del 2016, a renderlo noto il consigliere regionale del PD Dino Pepe che torna a denunciare i gravi ritardi nell'iter attuativo. Sono complessivamente 61 gli interventi di edilizia residenziale pubblica facenti capo all'Ater di Teramo e più nello specifico risultano 31 immobili ricadenti del comune di Teramo e restanti 30 in altri 19 comuni della provincia. Una situazione drammatica a distanza di 7 anni abbiamo ancora quasi 1000 sfollati in provincia di Teramo relativamente alle case Ater. Per questa ragione abbiamo raccolto il grido di dolore da parte dei rappresentanti degli sfollati Ater e domani faremo un'apposita commissione di vigilanza in consiglio regionale per parlare con i rappresentanti della giunta regionale, con i rappresentanti dell'Ater ma soprattutto per ascoltare i rappresentanti degli sfollati. Non abbiamo un orizzonte chiaro da questo punto di vista relativamente ai progetti, ai cantieri e soprattutto alla fine di questa ricostruzione di questi alloggi così particolari poiché riguardano le persone fragili della nostra comunità. Il numero complessivo degli alloggi interessati di 672 sono stati tutti ricompresi in base agli atti del commissario straordinario nel programma di ricostruzione delle opere pubbliche. Va sottolineato che il numero complessivo di persone sfollate è di 948, di cui 728 solo nella città di Teramo e che la somma per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica dell'Ater di Teramo è stimato per un investimento pubblico un importo complessivo pari ad oltre 60 milioni di euro. È ancora tutto fermo, per questa ragione faremo un punto della situazione con i rappresentanti degli sfollati ma soprattutto con l'Ater e con il delegato della giunta regionale poiché parliamo di un ente direttamente controllato dalla giunta regionale. In più nel 2022 l'Ater di Teramo ha chiuso il bilancio con 470 mila euro e per questa ragione presenterò un emendamento specifico proprio per coprire la perdita dell'Ater affinché l'Ater possa lavorare di più e meglio per ripristinare una legalità in questo territorio e soprattutto per ripristinare la civiltà e il rispetto verso i cittadini di Teramo e della sua provincia.